ciao ragazzi amici di News Formula Uno si è concluso il campionato del mondo duemila venti la stagione è andata in archivio con la vittoria di Max Verstappen e oggi ne parliamo io sono Giovanni Messi con me Davide Russo ciao a tutti ciao Giovanni a chi ti ascolterà e ovviamente a chi ha seguito questo gran premio che conteremo insieme assolutamente scusate se lo faccio all'inizio ma innanzitutto volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito quest'anno perché assolutamente abbiamo avuto alcuni picchi con cinquanta sessantamila visualizzazioni quindi siete stati tantissimi a credere in questo progetto dunque grazie a tutti e rimanete sintonizzati perché comunque anche durante l'inverno vi daremo compagnia con delle interviste approfondimenti quindi ci saremo sempre con voi e anticipazioni diciamo l'anticipazione della stagione duemila ventuno avremo ospiti quindi ci divertiremo e continueremo a fare live insieme anche perché adesso è il tredici dicembre ma tra meno di tre mesi ci saranno presentazioni dunque la pausa quest'anno è veramente cortissima andando un po' alla cronaca vediamo i risultati del Gran Premio di oggi dominato dominato in maniera incredibile da Verstappen non avevamo mai visto una Mercedes così in difficoltà come oggi Red Bull Honda davvero cresciuta Verstappen ha vinto il secondo Gran Premio stagionale dopo quello di Silverstone seguono dietro di lui le due Mercedes con Bottas davanti Hamilton, Hamilton incredibilmente sotto tono oggi l'abbiamo visto sofferente forse ancora qualche 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 postumo del covid sì Davide grazie che mi ha aiutato perché comunque non si è mai visto in tutto questo weekend mai un acuto mai un miglior tempo dunque sì sicuramente era un po' in difficoltà bene Albon lo dobbiamo dire quarta posizione davanti alle McLaren di Norris e Sainz Ricciardo Gasly Ocon e Stroll McLaren approfittando il ritiro di Perez batte la McLaren scusa batte la Racing Point per la classifica costruttori terzo posto per la McLaren Ferrari ne parleremo un'altra gara assolutamente imbarazzante sì allora partiamo da da Max good job Max Verstappen oggi veramente una lepre ad Abu Dhabi e dall'ultimo dal primo all'ultimo giro ha dominato quindi complimenti a lui mai dare dello stordito però a Lewis Hamilton come ho sentito quest'oggi in telecronaca perché sappiamo bene che è stata una settimana difficile probabilmente si presenterà con un bel rinnovo di contratto il prossimo anno ancora lì per conquistare vittorie e titoli quindi Mercedes che forse andate in vacanza prima del tempo distratta c'è stato una settimana fa l'errore clamoroso pit stop ma anche oggi si è visto forse un po' venuto a mancare di motivazione no sia anche nella gestione della gara per botta a sedemico McLaren terza forza quindi secondo me meritatissima questa questa posizione classifica costruttori bravo Kimi volevo sottolinearlo oggi una gara veramente un leone e complimenti ma questa volta sono ironici a Iñaki Rueda che non si sventisce mai lo stratega della Ferrari uno dei tanti problemi in questo momento che ha la scuderia italiana e infine da anche Seb perché oggi è l'ultima passerà in a sommarti l'anno prossimo e quindi è stata anche l'ultima apparizione del tedesco nella scuderia italiana. Sì vado subito a dire a Marco Ciardetti che sono d'accordissimo con lui scusate scusate Marco lo leggiamo dopo volevo dire Mattia e mai vista una gara così noiosa pista o scena vergognoso finire il mondiale in questo scempio sono assolutamente d'accordo una gara assolutamente ripugnante non c'è stato un sorpasso non è successo nulla Verstappi fra l'altro dovevo dire gran celem perché è stato in testa tutta la gara partendo dalla pole giro veloce vittoria quindi gran celem per lui credo sia il primo della carriera. L'ha fatto Ricciardo l'ha fatto Ricciardo il giro veloce. L'ha fatto Ricciardo gliel'ha tolto alla fine ok scusa non l'avevo seguito comunque una prova incredibile però sì ragazzi la gara è stata è stata veramente brutta e pensate in un futuro in cui il mondiale si giocherà all'ultima gara eravamo abituati alle emozioni di Interlagos e pensate un mondiale che si finirà da putabi cioè è veramente una cosa oscena questa pista brutta e impossibile superare nonostante dei lunghi rettilinei però i soldi comandano e vorrevo concludere prima di passarti la parola commentando un po' quello che è successo in Ferrari un'altra strategia allucinante cioè questa è una strategia che ti potevi permettere l'anno scorso quando il rettilineo non ti passava nessuno perché avevi un motore della madonna quest'anno sei stato sverniciato da tutte le parti e poi con gomma nuova non hai avuto ritmo e per chi dice che è colpa solo del motore l'eclerc ha preso Raikkonen e non è riuscito a passarlo quindi questo progetto è assolutamente da buttare via sperando in una rifondazione siamo molto caldi oggi siamo caldissimi e ragazzi Rueda ha combinato un'altra delle sue prima di tutto differenziare perché in quel momento era logico con due piloti vicini magari differenziare le strategie potevi rischiare con un pilota nel caso specifico Vettel con quel tipo di mescola ma comunque non aveva senso tenere l'eclerc in pista purtroppo l'ennesimo errore dello stratega spagnolo che è arrivato a Maranello come un genio doveva essere la punta di diamante giunta per per stravolgere degli errori che ormai erano diventati cronici invece purtroppo con con lui non è cambiata la sostanza purtroppo la gara è stata condizionata anche da questo perché è vero quello che dici tu circuito e non vediamo poi grande spettacolo neanche avanti perché lo stesso Albon si alla fine è arrivato negli scarichi di Hamilton ma non è riuscito neanche troppo ad avvicinarsi per tentare un sorpasso quindi c'è riuscito con proprio all'ultimo giro su stroll stroll veramente sotto tono racing point oggi esce ridimensionata con tra l'altro Perez che veniva dalla vittoria di sette giorni fa invece è stato così sì assolutamente una gara che offre pochi spunti Francesco che ci segue sempre ci scrive oggi è stata una vergogna assurda le commedure andavano più delle medie non so se si riferisce alla gara in sé o alla situazione della Ferrari però sì in ogni caso una gara brutta da vedere però ragazzi che tristezza veramente vedere questa Ferrari ridotta così fa veramente male cioè veramente triste piloti che non possono nulla lì dietro doppiati per l'ennesima volta e e anche oggi c'era una differenza comunque è vero Norris si è riuscito ad inserire tra Mercedes e Red Bull in qualifica ma in gara Mercedes e Red Bull hanno fatto quello che volevano anche se io comunque per il prossimo anno credo che Mercedes ripartirà con un vantaggio netto non credo che Red Bull sia della partita perché tutti gli anni Red Bull finisce molto bene il mondiale poi arriviamo alla prima gara e Mercedes ha un anno di vantaggio quindi credo sia un po' a a parte quello che dicono in tv che fomentano il tutto ma io credo che sia un po' rimanga un caso isolato a Melbourne e Mercedes farà doppietta tranquillamente secondo me anche perché l'anno scorso Verstappen ha concluso comunque in terza posizione classifica piloti e aveva concluso alla grande la stagione superando anche Leclerc e quindi di conseguenza chiude sempre bene Verstappen ma poi la stagione ovviamente le motivazioni sono diverse l'abbiamo detto anche prima andiamoci a vedere la classifica dai che è molto interessante Hamilton ha chiuso la stagione con 347 punti davanti a Bottas quindi secondo a 223 terzo Verstappen 214 Perez nonostante oggi abbia praticamente terminato la corsa da pochi giri e quarto quindi a 125 punti ci auguriamo che Red Bull investa sul messicano perché se lo merita Ricciardo quinto a 119 Sainz sesto a 105 insieme ad Albon entrambi a 105 punti settimo Leclerc che poche settimane fa era in lotta per la quarta posizione invece è finito ottavo oggi eh non ha eh sì è una tristezza perché oggi non ha raccolto neanche un punto e quindi ottavo davanti però a Norris che fermo a 97 nono Stroll decimo e poi nella seconda parte della classifica Gasly Ocon Fettel tredicesimo con 33 punti Chiat Ulkenberg Giovinazzi Raikkonen Russell i tre punti Russell ovviamente sono quelli relativi a settimana scorsa sulla Mercedes Grosjean Magnussen e Latifi vediamoci anche quella costruttori dai così te la faccio commentare subito a te Giovanni Mercedes 573 Red Bull 319 per ragazzi un distacco quasi doppiata quasi doppiata McLaren 202 Racing Point quindi chiude al quarto posto con cento cento novantacinque quindi ce l'ha fatta la McLaren poi vedremo se ci sarà una una penalità per Sainz ma comunque è tranquilla la scuderia di walking quinto posto per Renault sesto posto alla fine per Ferrari 131 punti davanti ad Alfa Tauri 107 Alfa Romeo solo otto punti daremo dopo le classifiche ci divertiremo ragazzi tutti voi e vogliamo interagire con voi sui voti As tre punti chiude la Williams che anche in questa stagione ah no la scorsa con Kubiz aveva fatto un punto me lo ricordo Kubiz aveva fatto un punto invece quest'anno proprio zero e anche questo c'è un po' di amarezza nel vedere una scuderia così importante tutto posto sì che poi fece un punto ricordiamolo per la squalifica delle Alfa Romeo Racing in Germania che lo fecero avanzare di una posizione di due posizioni se no sarebbe stato zero eh sì una secondo me una grande stagione della McLaren ma credo che i tanti rimpianti siano il Racing Point perché la Racing Point ha avuto due cedimenti di Power Unit con Perez nelle ultime tre gare ricordiamocelo anche in Bahrain 1 Perez era terzo tranquillamente ed esplose la Power Unit se no sarebbe stata tranquillamente terza la Racing Point che ha anche avuto quella penalizzazione di 15 punti ce lo ricordiamo per il clone Mercedes quindi sicuramente era la macchina più forte nel pacchetto di mischia per il terzo posto ma l'hanno dovuto cedere e francamente non so se si ripresenterà questa questa occasione perché comunque il clone come quest'anno verrà bandito dal prossimo anno si potranno riprendere dei concetti ma non sarà come quest'anno quindi arriverà aston Martin ma non so quali sarà il potenziale bene tutto sommato anche la Renault purtroppo hanno avuto un inizio di stagione negativo poi si sono rialzati con diversi podi arrivano quinti ma fossero partiti così forte sin dall'Austria li avremmo visti secondo me anche loro lì per il terzo posto e Mercedes va bene abbiamo detto hanno fatto il bello e il cattivo tempo e Red Bull ha corso per quasi tutta la stagione con un Piro da solo io non credo che la gara di oggi basti ad Albon per per guadagnarsi la riconferma sarebbe obiettivamente uno scandalo considerare la gara di oggi e Ferrari sesta Ferrari e questo è il peggior risultato della storia se escludiamo il 1980 nel quale la Ferrari chiuse decima con quella macchina disastrosa la T5 e pensate un po' qual è la situazione oggi di poco davanti all'Alfa Tauri che comunque una gara l'ha vinta malissimo secondo me anche AS e Alfa Romeo che praticamente hanno presentato le vetture del 2019 con una livrea diversa perché sono le stesse macchine dell'anno scorso e con questa Power Unit hanno fatto sicuramente peggio degli altri anni e Williams vabbè neanche ne parliamo purtroppo una situazione triste speriamo si rialzino però sicuramente delusioni i tre team motorizzati Ferrari perché la AS tutto sommato nel 2019 qualcosa di buono l'aveva fatto vedere anche l'Alfa Romeo soprattutto nella prima parte poi è arrivato un crollo verticale oggi la AS credo abbia preso un minuto dalle Williams vedevo ad un certo punto erano lontanissimi dalle Williams Bangloss e Nfittipaldi quindi bruttissima figura per la Ferrari questo 2020 resterà un neo incredibile secondo me sì rispondiamo un po' di domande che ci arrivano allora c'è Davide che ci chiede ragazzi voi che siete del settore che riprenderà il posto di Camilleri per rifondare la Ferrari purtroppo si parla di Todd si parla comunque anche di personaggi fuori dalla famiglia e dal nucleo FCA di sicuro non si tratterà di una rifondazione perché si va verso la conferma di Binotto è uscito naturalmente lo sappiamo Simone resta in direzione della AS il prossimo anno magari aiuterà Mick Schumacher nel 2021 con una monoposto in ottica ovviamente 2022 con con un miglioramento perché la AS ne ha bisogno però Camilleri diciamo era una figura un po' particolare perché è un uomo che con il motorsport aveva poco a che fare lui si è dimesso anche per per la carica alla Philip Morris in ogni caso ci auguriamo che è di una pronta guarigione perché si parla di problemi di salute e relativamente alla rifondazione purtroppo si continuerà così io dico purtroppo perché i risultati sono impietosi e Binotto nonostante una una gestione sportiva al di sotto degli standard continua a conservare questa posizione di potere molto forte in Ferrari e in questo momento c'è il Cannes che ad interim eh è amministratore delegato da Ferrari sì 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 purtroppo sì il credo l'unico cambiamento resti quello di Camilleri almeno per il momento eh però vedremo certo arrivassero una figura come Todd sarebbe non sarebbe un cambiamento da poco c'è chi invoca anche il ritorno di Camille di scusami di Montezemolo però io sono anche un po' dell'idea che si debba guardare avanti c'è una formula questa che è cambiata ovviamente Todd Montezemolo hanno fatto hanno avuto dei grandissimi successi però adesso sono anche un po' avanti con l'età certo Todd sarebbe tanta roba ma ormai la formula 1 è cambiata cioè sono passati vent'anni da quando Todd era al comando della Ferrari 14 anni quindi non so se adesso avrebbe la stessa impronta poi comunque era un team principal non un CEO Todd quindi sono due cose decisamente diverse ormai la formula 1 è quella dei Toto Wolf dei Chris Horner di nuovi personaggi quindi quindi non lo so sicuramente io vedo una situazione nera non mi aspetto una Ferrari che lotti per i poti nel 2021 assolutamente secondo me sarà lì con ma non lo so perché Renault sono cresciute tutte tantissimo McLaren avrà i motori Mercedes cioè se ti devo dire adesso una previsione non so se Ferrari farà meglio del sesto posto arriverà un nuovo motore sì ma il telaio sarà questo non cambierà tantissimo sarà in lotta con questi team come dice Giovanni non è da Ferrari non è da Ferrari infatti noi ci a volte ci cazziano perché in qualche modo critichiamo l'operato della Ferrari però bisogna anche ammettere che questa è una stagione davvero difficile e il prossimo anno le macchine saranno gli stessi ci sarà ovviamente qualcosa a livello del retrotreno ci saranno più cavalli però in ogni caso le altre scuderie non staranno ferme io credo che nel macchetto di mischia da Ferrari ci sarà ma più con Aston Martin e Renault mentre la McLaren con l'arrivo di Ricciardo e con la motorizzazione Mercedes la vedo un passo in avanti già questa stagione sono andati molto bene col duo Sainz Norris il prossimo anno si rinforzano quindi occhio alla McLaren che pian pianino magari si va anche a prendere a Red Bull volevo rispondere a Luigi che ci dice a proposito del largo che dicevamo non si può intervenire su questo elemento perché sono parti congelate lo ha detto Banzini adesso a fine se lo ha detto Banzini alziamo le mani però a parte scherzi adesso andiamo un attimo a spiegare qual era la situazione Musetto Luigi praticamente tu dovevi omologare un eventuale nuovo muso prima se non ricordo male del 30 settembre perché se ne parlava tanto nei giorni del Gran Premio del Mugello che più o meno era infatti ricordate McLaren ha omologato il muso uguale a quello Mercedes proprio in occasione del Gran Premio del Mugello quindi entro una data tu dovevi omologare quella quel particolare adesso se vuoi cambiare il muso devi spendere il gettone per modificare il muso ma quel gettone verrà speso probabilmente per la sospensione quindi sì il muso rimarrà così ma volendo tu potevi modificarlo cioè non è che non si può fare è che adesso è tardi perché hanno deciso di tenere quel concetto ma volendo tu in tempo a tempo debito potevi fare la modifica è che in Ferrari purtroppo vige la staticità non c'è mai il coraggio di tornare sui propri errori e e anche il 2021 sarà una stagione di sofferenza sono pronto a scommetterci su questo non mi aspetto assolutamente granché di diverso dai offri qualche caffè offri qualcosa e ragazzi facciamo scommesse di questo tipo dai allora perché siamo realisti io credo cioè visto quello che vediamo la squadra sarà questa non capisco quello che potrà cambiare gli altri non staranno fermi e non è che Ferrari lavora e gli altri sono fermi e poi ragazzi va detto una cosa relativamente al dominio Mercedes diventa difficilissimo pensare che team comunque clienti come Aston Martin come McLaren anche Williams possano dare veramente fastidio a Mercedes per il titolo mondiale perché è logico che rimarranno sempre in un diciamo di un livello superiore e l'abbiamo visto anche quest'anno con la racing point che era nettamente indietro perché era l'auto dell'anno scorso della doppia V10 quindi diventa difficile anche da quel punto di vista e soprattutto l'annuncio di Honda che abbandonerà il Circus a fine 2021 certamente non ha dato un impulso positivo alla rincorsa della Red Bull ci aspettavamo tanto al team austriaco però le premesse sono arrivate due vittorie questa è la seconda di Verstappen in stagione e quindi è troppo poco troppo troppo poco ma poi sono cioè se voi ricordate un po' Silverstone quel giorno ci fu un inspiegabile crollo della Mercedes no grande blistering sulla gomma oggi c'è oggi le Mercedes soggettivamente mi sembravano un po' impasseggiata cioè non era più la Mercedes che spinge lo sviluppo è stato concluso quindi obiettivamente una vittoria sì un bel finale che fa morale ma Mercedes è ancora nettamente davanti anche perché ricordiamoci due settimane fa in Bahrain Hamilton passeggiava e Verstappen perdeva sette ottodecimi al giro quindi sì secondo me più un contentino di fine stagione ma Mercedes se vuole mette il piede giù e l'anno prossimo le vince tutte secondo me è un trionfo illusorio non ci sarà partita no non ci sarà partita assolutamente è un trionfo molto illusorio poi sappiamo che il prossimo anno non ci sarà il DAS ma in ogni caso abbiamo visto anche senza senza il party mode che con la monomappatura è cambiato è cambiato veramente poco vogliamo iniziare a dare un po di voti Giovanni ma io direi di sì assolutamente vai partiamo da dai teniamo un po fede alla classifica partiamo dai Mercedes partiamo da Mercedes stiamo parlando di loro vai pure con il tuo primo voto ma Mercedes io gli do un nove nove dai nove nove e mezzo secondo me non da dieci perché non ci hanno messo Russell per il prossimo anno al posto di Bottas quindi io ti do gli do non gli do la piena l'eccellenza e anche perché comunque quello che è successo in Bahrain lì un errore che è costato a Russell una bella vittoria per il resto per il resto perfetti eh cosa vuoi dire? Eh sì eh ragazzi hanno toccato veramente la la perfezione con questa vettura quindi anch'io sto su quel voto lì diamo un nove e ha concluso male la stagione altrimenti sarebbe stato un dieci e la ciliegina della sulla torta sarebbe stata la vittoria di Russell o una doppietta qui come al solito no? Poi ad Abu Dhabi la Mercedes aveva sempre dominato però diamo questo nuovo. Due gare di fila senza vincere. Incredibile. Clamoroso. Clamoroso. Red Bull dai. Red Bull Red Bull sette secondo me sì sono d'accordo con Damiano sette massimo un sette e mezzo perché dovevano spaccare tutto ricordiamoci le dichiarazioni inizio stagione sono arrivate due vittorie una pole sì sette io mi fermo al sette do un bel io scusami Davide so che non sarei d'accordo ma do dieci a Max Verstappen perché secondo me ha fatto una stagione incredibile. Dopo parliamo dei piloti. Ah parliamo solo delle delle squadre ok. Red Bull e io sette. Per me sei. Sufficienza. Sì perché hanno sparato troppo all'inizio dicendo che sarebbe stata una lotta mondiale quindi le aspettative erano alte mi aspettavo un Verstappen quest'anno capace in tutti i GP di dare filo da torcere a a Lewis Hamilton e invece non ci sono riusciti quindi sufficienza sì perché comunque sono stati bravi però Albon non insomma non c'è stata questa alchimia tra compagni di squadra io do solo sei. Andiamo avanti con McLaren. McLaren otto secondo me otto perché stanno facendo una bella crescita ogni anno step by step quindi secondo me se lo meritano poi la oggi ero indeciso mentre ci pensavo ero lì sul set sette e mezzo però adesso sono arrivati terzi nel costruttore quindi secondo me vanno premiati secondo me se lo meritano. Sì però ti dico che secondo me un sette è più giusto secondo il mio punto di vista perché c'è stata una fase calante. È troppo duro Davide sì. Sono duro però c'è stata quella fase dove mi aspettavo una macchina più costante eh sull'arco dell'intero calendario invece la fase quella è vero. Sono un po' scesi e quindi sette dai otto me lo me lo riservo per l'anno prossimo con Ricciardo e Norris. Racing point. Racing point sei e mezzo sei e mezzo perché avevano a disposizione un missile chiaramente non fatto da loro questo ragazzi lo sanno tutti e hanno avuto tanti problemi tanti punti gettati al vento quindi secondo me al sette non ci arrivano perché comunque erano la terza forza come macchina ma hanno buttato tante tante occasioni e soprattutto perché hanno messo fuori squadra Sergio Perez. Copioni tra l'altro diciamo. Sì. Brutti copioni gli diamo la sufficienza però da da un certo punto di vista sono sono assolutamente d'accordo con te e avevo una disposizione davvero materiale straordinario forse. Sì. Ci sono state anche tante imprecisioni a livello strategiche mi ricordo qualche GP buttato all'aria con con strategie senza senza senso quindi al massimo la sufficienza. Renault questa volta ti do prima io il voto. Vai vai. Renault sette pieno perché hanno fatto dei passi in avanti sono davanti alla Ferrari prossimo anno torna Alonso molti stanno sottovalutando questo ritorno di Alonso sono convinto che se torna è perché qualcosa di positivo il prossimo anno sì sì sono avanti nel progetto 2022 quindi occhio ad Alonso quindi un bel votone questa volta la Renault. Ne hai dato sette giusto? Sì. Sette e mezzo secondo me perché sono cresciuti durante l'anno hanno fatto un bello step avanti e poi per aggiungere una cosa sul ritorno di Alonso ricordiamoci che Alonso storicamente non è mai stato un fenomeno a scegliere la macchina quindi sul progetto 2022 voglio andarci pianino però sicuramente rivederlo in macchina sarà sarà molto divertente. Allora tasto dolente Ferrari voto tre due due voto tre allora ti spiego il perché poi poi mi dici i tuoi motivi. Allora prima di tutto accordo segreto con la FIA gran casino passo indietro qui nel livello di power unit timing sbagliato nella gestione di petrol strategie sbagliate pit stop comunque lenti ci sono stati errori e tante anche comunicazioni eh da parte di Binotto allucinanti quindi per me voto è tre per me è due stamattina mentre ne parlavamo con Davide ero un po' più ero andato un po' più in alto ma poi ho visto anche la strategia di oggi sono d'accordo con tutti i motivi di Davide e addirittura Matteo ci scrive Matteo Draishi ci scrive zero zero un po' troppo ma eh due perché comunque a parte i motivi che hai individuato tu stiamo parlando di Ferrari non stiamo parlando di AS con tutto il rispetto c'è un aggravante è proprio quella che ti chiami Ferrari che devi devi comunque sempre combattere con orgoglio anche in una stagione difficile quest'anno hanno fatto di tutto per peggiorare il tutto pit stop strategie cose indipendenti dalla motoposto e hanno sbagliato di tutto quindi per me due assolutamente Alfa Tauri Alfa Tauri secondo me merita un bel voto e do un sette sette perché hanno veramente trovato la giusta alchimia tra i piloti l'anno prossimo non ci sarà Kiat però Gasly è cresciuto tantissimo hanno vinto un GP ricordiamo a Monza e nel complesso veramente hanno sfruttato tutte le chance che gli sono capitate quindi bravi sì sì sono d'accordo con te sette anche secondo me l'unico team italiano che ha vinto una gara quest'anno quindi questo ricordiamolo Alfa Romeo cinque perché otto punti sono veramente pochi nonostante qualche acuto di di Kimi Raikkonen specialmente quello allo start ricorderete e qualche gara positiva di sì a Portimao e qualche gara comunque positiva di Giovinazzi si è visto poco quindi per me è insufficiente anche secondo me ma è vero comunque tante colpe anche al motore Ferrari che sicuramente non ha aiutato però è anche vero che a livello di telaio hanno portato una macchina identica a quella del 2019 cioè non c'è stato non c'è stato sviluppo anzi forse sì forse vado un po' d'accordo con Damiano secondo me anche siamo siamo anche sul quattro perché comunque non hanno fatto nulla e così come la AS per me anche la AS è da quattro pieno poi te lo passo a te il voto della AS ma anche loro ricordiamoci nel 2018 l'AS aveva una gran bella macchina arrivo quinta nei costruttori poi un crollo verticale anche loro praticamente dal 2018 hanno sempre la stessa macchina sempre la stessa non cambia mai nulla per me AS voto due ragazzi un disastro totale anche la gestione di Steiner dei piloti l'ho apprezzato nel documentario di Netflix perché comunque è un bel figlio ma non ci siamo non ci siamo devono cambiare tutto vedremo il prossimo anno con Mazepine che porta anche un bel po' di soldi arriva Mick e ci sarà un anno sarà un anno particolare lo terremo sott'occhio naturalmente il figlio del Kaiser però insomma per ora davvero malissimo sì ho evitato il come hai detto tu due o tre due due ho evitato il due giusto perché hanno preso Mick Schumacher quindi ci faranno rivedere un un nome del genere Formula 1 due anche per la Williams secondo me se non uno perché uno uno perché questa Williams è imbarazzante dove li hanno visti i progressi rispetto all'anno scorso io non lo so perché a livello di punti hanno fatto peggio dell'anno scorso un team come questo che fa zero punti e non so se è la prima volta non so se era mai capitato Williams zero punti però è veramente inguardabile come cosa scusate ma è assurdo penso la prima volta comunque disastro anche io do ma è un uno di fiducia eh perché a livello pratico sarebbe meno uno altrimenti diventa veramente sotto lo zero quindi male male la nota positiva è ovviamente Russell però anche lì quando ha avuto mezza occasione a Dimola è andato comunque fuori il regime di safety car quindi eh non c'è stata una mai una gioia poi c'è stato il passaggio ricordiamo salutiamo anche la famiglia Williams Frank Flair che hanno lasciato il team e adesso è tutto nuovo quindi ci si aspettava davvero di più sì anche la gestione di Claire obiettivamente è stata veramente pessima da quando ha preso in mano il team lo ha portato al tracollo quindi male male anche lei passiamo ai piloti Davide passiamo ai piloti vai con Lewis Hamilton vai Lewis Hamilton obiettivamente ha fatto una stagione dominata non ha mai avuto avversari secondo me oggi però voglio dire ancora una volta non mi è piaciuto non mi è piaciuto perché per una gara che era terza terzo ogni due secondi team radio la macchina non va strategia sbagliata quando non è primo ha sempre qualche buon motivo per lamentarsi però secondo me Hamilton nove perché comunque ha vinto il settimo mondiale glielo dobbiamo dare glielo dobbiamo dare assolutamente un nove perché quando vinci sette mondiali anche se con un'astronave te lo meriti allora io gli do un otto come probabilmente sarà il numero di titoli mondiali che vincerà il prossimo anno perché ha quest'anno avuto a disposizione un'auto nettamente superiore rispetto alla concorrenza rispetto ad altri anni dove magari il titolo se l'è sudato di più è stato sicuramente impeccabile fortissimo è l'uomo immagine della formula uno però il diciamo il nove dieci secondo me non non se lo merita perché è stato troppo facile cioè per uno con il suo talento vincere questo mondiale ha fatto il suo ha fatto molto bene grande voto otto però insomma lo vorremmo vedere una sfida o interna con Russell o comunque con Verstappen Leclerc che c'è sì diciamo che il voto mio è anche per il il voto condato Hamilton anche perché comunque hai vinto sette mondiali diciamo è più un voto alla carriera perché obiettivamente anche ieri la stagione il brutto giro di qualifica ha buttato in mezzo che fisicamente non era al top sempre per non riconoscere magari che gli avversari abbiano fatto meglio questi sono atteggiamenti che dovrebbe migliorare secondo me Bottas 4 4 secondo me non è mai esistito anche nella gara senza Hamilton era dietro a Russell secondo me è un'insufficienza piena mamma mia l'ha ammazzato Bottas io gli do un 5 gli do un 5 solo tre voti tra Hamilton e Bottas no no allora ti dico il perché perché tutto sommato diciamo il secondo lo sa fare bene e questo bisogna riconoscerlo c'è grande alchimia tra lui e Lewis e sono una buona coppia in pista comunque ha portato con diverse gare in anticipo la Mercedes a vincere titolo costruttori e comunque secondo in classifica tu dici troppo poco però il suo l'ha fatto non ha non ha brillato per me è un 5 sì sì dai possiamo essere d'accordo comunque è sufficienza sì sì poi c'è Verstappen mi dispiace Verstappen per me merita un 10 io sono innamorato di Verstappen l'avrete capito ma quello lì ha una macchina che secondo me è 8 9 decimi al giro dalla Mercedes e si è inventato delle gare mostruose prendo anche una gara che non ha vinto Imola dove si è dovuto ritirare ma fece quel sorpasso splendido su Bottas delle gare pazzesche secondo me di Verstappen per me se lo merita un 10 perché quando vincerà un mondiale ok se lo meriterà di più ma questo qui fa sempre il massimo e spesso ha messo in difficoltà le Mercedes con un mezzo centimamente inferiore allora io mi riservo un voto stra top per per Max quando quando sarà in lotta e vincerà un mondiale per me voto è 8 8 come Lewis perché a parità ovviamente di situazioni non lo possiamo valutare su quella macchina fatto il massimo ma è stato anche lui condizionato con qualche problemino e in ogni caso è maturato sicuramente è maturato molto rispetto agli anni precedenti però mi aspettavo proprio di più nel complesso da Red Bull e Verstappen capito mi immaginavo comunque in lotta fino alla fine invece così francamente sia concluso oggi alla grande ad abutabile l'ultima tappa che stiamo commentando però qualcosina in più mi auguro per lui che possa arrivare nei prossimi anni Perez Perez secondo me 8 e mezzo 8 e mezzo e lo spiego perché non è partito fortissimo nelle prime gare era un po' indietro anche a Stroll se vi ricordate però poi quando sono arrivate l'aggiornamento le pance a laterali no quelle nuove per Stroll sono arrivato al Mugello per Perez credo neanche al Nürburgring ma alla gara successiva e da quando ha avuto questo aggiornamento di macchina è stato fortissimo cioè con una vettura diciamo non rivoluzionata però aggiornata ha trovato quel qualcosa in più e ha demolito Stroll nel finale e poi non so Stroll quanto è arrivato Davide nel mondiale Stroll nel mondiale è arrivato decimo ecco la Mercedes dell'anno scorso non puoi arrivare decimo quindi ha fatto una differenza incredibile Perez per me si merita questo voto bravo Sergio spero di averlo in Red Bull l'anno prossimo io sono d'accordo con Damiano 7 e mezzo perché il messicano sì 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 oggi sono cattivo ragazzi il messicano ha fatto bene si è preso questa quarta posizione però anche lì aveva a disposizione la la miglior macchina della sua carriera doppia V10 insomma è stato alta allenante poi c'è stato il covid di mezzo quindi questo ovviamente ha inciso però nel complesso merita due gare saltato due gare però merita di rimanere in Formula 1 e dagli ultimi numero che ho sentito da da Fabrega pare che eh si sia davvero un avvicinamento concreto adesso nelle ultime ore per la firma in Red Bull io me lo auguro temo che rimanga altro però mi auguro veramente per il futuro del messicano che possa rimanere nel circus continuiamo con Dani e Ricciardo Ricciardo sette e mezzo sette e mezzo perché ha fatto due podi eh però anche lui purtroppo non ha avuto un mezzo esaltante nelle prime gare però poi è cresciuto con la squadra quindi se lo merita secondo me sono molto curioso di vederlo con la McLaren Mercedes vedremo cosa riuscirà a riservarci Daniel per me voto sette grande stagione eh due podi è tornato è tornato quello di della Red Bull quindi peccato che però da una parte adesso che trovava un giusto rapporto con la squadra e sta facendo bene e sarà costretto a ricominciare tutto da capo però va in McLaren va eh insomma a migliorare ricordiamo la McLaren terza in classifica costruttori arriverà eh la la motorizzazione Mercedes quindi l'australiano avrà grandi chance anche il prossimo anno di salire sul podio ci dividiamo un po' la classifica adesso parto io con i voti sì sì posso aggiungere una cosa posso giusto aggiungere una cosa su Ricciardo secondo me non sono d'accordo che vada su il meglio perché comunque la McLaren Mercedes non vincerà mai un mondiale perché c'è la Mercedes casa ufficiale dubito che McLaren Mercedes vincerà un mondiale invece Renault comunque è un costruttore e secondo me è più possibilità di vincere con Renault ma non lo so difficile che col motore Mercedes vinci un mondiale da non costruttore no no questo sì però non parlo di mondiale parlo di uno step che secondo me si parla addirittura di di tanti tanti soldi che arrivano da un'offerta sta crescendo quello sì e quindi stanno arrivando degli investitori sappiamo quanto sono avanti anche a livello di factory quindi continuerà continuare a crescere allora adesso parto io con science allora science sei e mezzo perché nel 2019 secondo me ha fatto meglio è stato il primo degli altri l'anno scorso invece quest'anno è stato altanenante è stato anche un po' sfortunato ma ci sono stati anche degli errori suoi quindi nel complesso gli do una sufficienza anzi qualcosa in più con con sé e mezzo anche io sono d'accordo sono d'accordo forse anche un po' verso il sette e ti spiego perché perché comunque aveva iniziato peggio di Norris Norris aveva iniziato con un podio aveva allungato nella classifica su science poi man mano si è ripreso certo rimane quel neo purtroppo quella vittoria di Monza che non è riuscito a prendersi secondo me quella la rimpiangerà anche perché adesso andrà in Ferrari e prima di vincere una gara ragazzi ci vorrà di acqua sotto i punti ci vorrà parecchio tempo poi c'è Albon ragazzi c'è Albon che lo aspettavo io gli do cinque e mezzo cinque e mezzo e aspetta te lo motivo per un solo fatto che quella dichiarazione che ha rilasciato eh Helmut Marco di due macchine praticamente con tra Verstappen e Albon completamente diverse con pezzi diversi sinceramente mi ha fatto venire qualche dubbio cioè è un problema di gestione interna o Albon è stato veramente al di sotto delle aspettative quindi comunque la sufficienza non se la merita perché ha finito eh settimo addirittura con 105 punti dietro Sainz Ricciardo Perez eccetera però cinque e mezzo se devo allora infatti anch'io ho due voti diversi su Albon adesso te li spiego in base ai risultati che ho visto in pista gli do quattro perché la differenza è stata incredibile però anch'io gli do sul cinque e mezzo sapendo di questo cioè perché comunque consideriamo che anche Gasly lo scorso anno venne demolito da Verstappen prendeva un secondo un secondo e mezzo quindi è chiaro che Red Bull abbia questa politica di puntare solo su Verstappen non lo possiamo sapere il reale potenziale di Albon secondo me non è non è questo con una Red Bull io non credo che arrivi ottavo nel mondiale non ci credo che è questa la differenza settimo è arrivato però insomma è comunque poco no per per un top team Leclerc ragazzi qui iniziamo a dare voti quelli pesanti allora io gli do sei e mezzo perché è stata l'unica nota positiva però ha commesso degli errori gravi gravi e potevano essere davvero pesanti se fosse stata la Ferrari in lotta per qualcosa di diverso forse anche a causa della della SF mille naturalmente eh però eh dopo l'esploit dello scorso anno era difficile ovviamente mantenersi su quegli standard ma non mi ha completamente ammaliato la stagione di Leclerc eh oggi anche un po' anche nella gestione per dirti del pit stop no? Poteva anche prendere una decisione sua imporsi un attimino di più perché gli anni passano in Formula uno e secondo me un leader quello che deve diventare in Ferrari al momento ancora non è a 360 gradi il buon Charles no io gli do sette e mezzo perché senza Leclerc la Ferrari non avrebbe mai fatto punti quest'anno quindi sia sbagliato e rispondo anche un po' a quello che hai detto tu no? Del fatto che con una macchina da mondiale avrebbe compromesso tutto secondo me gli errori di Leclerc dipendono dal fatto che comunque abbiamo una macchina imbarazzante cioè la macchina di quest'anno ti permetti portava a sbagliare tanto e Andrea ci scrive avete visto il riassunto delle cappellate di Leclerc sono state tante assolutamente ha sbagliato ma senza Leclerc Ferrari quest'anno concludeva nona secondo me nel mondiale concludeva lì con Asse e Alfa Romeo perché l'avete vista la prestazione della macchina qual era quando Leclerc non ci metteva una pezza ha preso dei punti dei podi ha fatto dei bei sorpassi di legare comunque di sostanza secondo me sei e mezzo è troppo poco perché la Ferrari senza Leclerc quest'anno non si sarebbe mossa poi ognuno ha i suoi voti però lui ha sbagliato con una macchina che ti portava a sbagliare Fettel due anni fa buttò un mondiale con una macchinata mondiale per gli errori e lì si viene viene sempre difeso dai più quindi secondo me Leclerc quest'anno si ha sbagliato tanto ma sono errori più accettabili quelli di Leclerc poi ognuno al suo al suo parere assolutamente secondo me ci sono stati lampi di di grandissime qualità con giri di qualifica strepitosi con dei podi ma nel complesso mi aspettavo comunque anche lì a partire dal dall'inizio proprio della stagione una Ferrari diversa e quindi il mio voto ovviamente considera un po' anche quello hai ragione sul discorso degli errori io la penso come te ha fatto tanti errori perché purtroppo questa macchina ha dei problemi e ne parleremo anche della questione Fettel perché non è che riguarda solo Leclerc guarda ovviamente anche il tedesco Norris do lo stesso voto di di Leclerc sei e mezzo Giovanni perché secondo me sì 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 perché ha fatto bene però anche lì seconda fase un po' calante era partito fortissimo podio era nettamente davanti a Sainz se ricordi e però se guardiamo la classifica Sainz 105 Norris 97 è stato superato quindi poco se così anche per me anche per me sei e mezzo non mi ha entusiasmato a parte le prime gare e il gran giro di qualifica di ieri però non non mi ha dato quel qualcosa in cui speravo diciamo si era sembrava nettamente davanti a Sainz nelle prime gare invece poi si è plafonato quindi sì anche per me penso sia il primo voto in cui siamo d'accordo questo è il bello no bello della diretta è il bello delle delle nostre considerazioni Stroll 5 e mezzo no no c'è Gasly no c'è c'è perché sono finiti a pari punti parliamo di parliamo allora prima di Stroll 5 e mezzo è sufficiente e non so come la pensi però aveva a disposizione una grande macchina ha fatto vedere qualcosina però insomma è troppo poco per me 5 sì giusto quella polli in Turchia ma per il resto poca roba 5 secondo me vai tu con Gasly Gasly 7 7 e mezzo anzi 7 e mezzo Gasly perché comunque ha vinto una gara è andato in gran crescendo ha fatto una bella stagione solo nelle ultime gare Chiatt gli sarà avvicinato molto anche in qualifica l'ha battuto qualche volta nelle ultime gare leggermente incalando se no gli avrei dato 8 però buona buona stagione si è rialzato dopo una stagione terribile in Red Bull e bravo Gasly 7 e mezzo secondo me sì ottima ottima stagione non era facile perché dopo l'anno scorso dopo la mazzata ricevuta e la retrocessione nello junior team si è ripreso bene e diventato il leader di questa squadra di 7 pieno dai eh al francese se se lo merita poi ha vinto anche una bella gara quindi positivissima la stagione di bravo parliamo del campionato dice di Ocon e qua ci dividiamo un po' vai eh Ocon guarda non non è facile dare un giudizio secondo me una sufficienza un 6 perché comunque è stato tanto tanto tempo lontano da Ricciardo però ha fatto quel po' di imbarei nelle ultime gare l'ho visto in crescita quindi diciamo un 6 di incoraggiamento però la differenza con Ricciardo è stata tanta va detto anche che lui veniva da un anno di di pausa cioè un anno non aveva corso quindi è una piccola attenuante però non ha il talento di Ricciardo se meno meno ricordi quei voti scolastici bruttissimo meno meno cioè è una sufficienza però con qualche con qualche astizio sì perché ci sono state un po' gare veramente sotto tono dove è scomparso cioè non non si capiva se si correva non correva però eh comunque viene da un podio eh a Sakir oggi ha fatto un sorpasso all'ultimo giro dai siamo lì siamo tra il cinque e mezzo e la è una sufficienza molto risicata e adesso andiamo sul piatto forte di Giovanni ragazzi Giovanni Mesti ci sta pensando da ora e Sebastian Vettel quattro e mezzo ragazzi secondo me quattro e mezzo perché la voglia a dire macchine diverse ma è stato demolito dalle clerk quattro e mezzo secondo me anche troppo quattro volte campione del mondo che esce da un confronto con le clerk che è stato demolito anche l'anno scorso finì a trenta punti dalle clerk quindi secondo me esce molto molto ridimensionato da questo confronto e da questa esperienza in Ferrari perché comunque credo quel mondiale perso due anni fa pesi come un macigno e credo che non avrà più occasioni del genere io me l'aspettavo ancora peggiore il tuo voto su Sebastian no non voglio infierire non voglio infierire ma io ti ti do un cinque un cinque te lo motivo allora è sicuramente insufficiente perché trentatré punti un punticino in più di Kiat insomma è troppo poco ha fatto una gara strepitosa ad Istanbul secondo me in condizioni difficilissime si è esaltato in quell'occasione ma nel comunque le clerk gli prese trenta secondi eh quello di clerk ricordiamo rimontò diciamole tutte diciamo oggi oggi proprio ragazzi però ti ripeto è talmente inferiore rispetto agli anni precedenti quest'auto che è stata è stata inguidabile per lo stile di di Sebastian è stata veramente un'auto infelice felice il progetto questo questo rake questo retrotreno ballerino mille correzioni si è girato tante volte ma purtroppo ragazzi su questa SF1000 i miracoli non si potevano fare ne ha fatti già qualcuno eh le clerk però insomma c'è stato quell'acuto di Vettel e nel complesso comunque gli do gli do l'insulenza sì poi se posso aggiungere solo una cosa su Vettel una cosa sì gli va reso onore per quella gara in Turchia però non mi piace molto quello che era successo dopo quella gara in Turchia ovvero tutti a dire ah eccolo Vettel vedete tutti adesso sul carro di Vettel però un pilota non va valutato per una sola gara c'è in una stagione trentatré punti di quei quindici fatti in quella gara secondo me è assolutamente insufficiente no però sto valutando la professionalità sto valutando il fatto che il lato umano non si può dire nulla il lato umano è stato è stato una grande bandiera della Ferrari eh ci ha creduto nel progetto ci sono veramente delle immagini emotivamente parlando molto forti però è finita male è stata una storia d'amore finita malissimo cioè con un alto sai quegli innamoramenti spettacolari e poi ma lì ha sbagliato anche la Ferrari eh sì 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 è finita schifio ragazzi cioè non poteva finire così poi tra l'altro un ragazzo d'oro che ha sempre tenuto tanto per la Ferrari ma ma Binotto anche in questo secondo me è responsabile sì l'abbiamo detto tante volte il timing certe dichiarazioni e ci dispiace dirlo però ragazzi per me Binotto è anche lui anzi se tu gli hai dato quattro e mezzo al petto Binotto zero Binotto andiamo sullo zero eh sul negativo sì 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 poi chi c'è? chi ha? poi c'è Tani Chiat il pilota russo dell'Alfa Tauri cinque battuto nettamente da Gasly per me è insufficiente sì dai cinque sono d'accordo poi il prossimo anno andrà andrà via ha chiuso il crescendo diciamolo che ancora non è sicuro dovrebbe arrivare Tsunoda però ancora non è ufficiale Tsunoda il giapponese che poi se lo merita un pilota interessante sì 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 ha fatto benissimo in Formula 2 e ha concluso anche lì la stagione in crescendo quindi bel pilotino tra l'altro un pilota Honda fondamentalmente quindi sarebbe il connubio perfetto per la Red Bull Honda Hulkenberg diamo anche un voto a lui con questi dieci punti ma secondo me dai un sette non ha sfigurato quando è sceso in pista considerando che non ha mai provato la macchina era andato a punti per me ha fatto bene Hulkenberg sì sì poi grande cuore sei e mezzo dai sei e mezzo perché mi sembra un po' eccessivo a Nico però dai non ha non ha non ha sbagliato granché insomma ha approfittato della chance che gli si è presentata Giovinazzi Giovinazzi sei e mezzo sei e mezzo dai non ha fatto male ha vinto il confronto in qualifica con Raikkonen se non sbaglio ha sbagliato ha fatto un brutto errore in Belgio andò a sbattere però alla fine con quella macchina ragazzi già fare quattro punti è un miracolo secondo me non ha sfigurato più di tanto e anche Raikkonen secondo me anche Raikkonen siamo sul sei e mezzo sette perché con l'alfa obiettivamente ti può inventare poco non lo so ragazzi Giovinazzi e Raikkonen do lo stesso voto ma sei proprio a fiducia eh sono stati confermati entrambi il prossimo anno però ho molti dubbi e ma cosa potevano fare? Potevano fare poco però si sono visti dei lampi ma da Giovinazzi diciamo che non era il primo anno in Formula 1 questa volta forse ci si poteva aspettare un piccolo step avanti? Non lo so tu sei oggi abbastanza buono Giovanni secondo me Antonio sarà l'anno della verità il prossimo dai sì però però se è una macchina che prende due secondi al giro dai top non puoi pretendere più di tanto secondo me anche Russell che ha fatto degli errori per carità eh però Russell ha comunque una Williams saltato su una Mercedes ha fatto vedere che può avere lo stesso rendimento di un sette volte campione e quindi secondo me Russell anche che c'è dopo Giovinazzi un sette e mezzo se lo merita perché comunque ha fatto dei giri di qualifica anzi gli do otto a Russell perché di ha fatto degli errori ma ha messo sempre a Williams in Q2 ha fatto una gara mostruosa per me un otto se lo merita anche di incoraggiamento. Io sono d'accordo con Davide Fraccaro sette perché eh stato sfortunatissimo Russell eh lo lo ribadiamo però nel complesso diciamo da 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 un certo punto di vista aveva avuto qualche piccola chance anche in Williams abbiamo detto prima con quell'errore a Imola nel complesso eh sì quello è stato brutto però una stagione che poteva finire magari veramente con il coronamento della vittoria a Sakhir e è andata male però è un gran talento non vediamo l'ora di vederlo in in Mercedes. Chiudiamo con i piloti a questo punto della asse Latifi Grosjean beh mi dispiace per l'incidente tutto però Grosjean e Magnussen li dico tutti e due insieme un cinque molto molto risicato cinque meno meno perché comunque anche loro tanti tanti errori secondo me siamo lontani dalla sufficienza loro hanno sbagliato tanto a differenza di quelli dell'Alfa secondo me. Sì entrambi insufficienti però io voglio dare un dieci a Grosjean solo per quell'episodio perché è uscito tra le fiamme sembrava veramente un un film hollywoodiano no? L'eroe che riemerge tra le fiamme si è si è salvato grazie veramente a a ad una prontezza di riflessi al fatto che sia rimasto anche cosciente e quindi eh dai è un voto per 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 l'episodio perché è stato grande in quell'occasione Romano però la stagione è insufficiente così come quella di la Tifi vabbè zero punti zero zero proprio zero secondo me una catena non merita quel posto la Tifi ha solo il portafoglio ragazzi perché per il resto non ha non ha dimostrato nulla magari magari avere solo quello eh questo aggiungiamolo eh sì sì eh ragazzi non non sarebbe male anche avere quello che c'ha nel portafoglio la Tifi questo è Damiano mi suggerisce un voto meccanici Ferrari quanto gli dai Davide tanto fitti pal di Heitken non possiamo valutarli quindi meccanici Ferrari no no insufficienti insufficienti gli do veramente quattro e mezzo quattro sì non non si possono accettare ragazzi certi errori adesso si parla di dadi eh cioè non non si può sentire nel 2020 ancora questa questione eh cioè non non va bene hanno vinto quelli della Red Bull il premio per i pit stop più veloci e invece Ferrari sono rimasti indietro anche qui certo non mi chiedete di rueda perché lo stratega spagnolo io ce l'ho qua ragazzi proprio qua diciamo che l'unica cosa bella della Ferrari quest'anno è stata la livrea al Mugello secondo me per il resto tutto tutto scandalosamente sbagliato tra l'altro è andata anche in asta quella macchina sai quella lì da Sotheby si è andata in asta con quel colore fantastico a una quindicina di euro credo venga acquistata sì sì cifre cifre bassissime per comuni mortali allora voto finale alla formula uno quest'anno cinque do un cinque perché hanno corso su tracciati bellissimi secondo me ma il mondiale è stato inguardabile congelamento per le prossime stagioni regole assurde quindi cinque di fiducia giusto per le piste per il resto tutto da tre perché è una formula Mercedes ormai che non emoziona più nessuno allora io do la sufficienza ma solo per lo sforzo ah è perché hanno organizzato il mondiale sì per una stagione difficilissima c'era la questione del covid se la sono cavati egregiamente però si è visto troppo show business abbiamo visto troppe immagini eh legate sempre a questa volontà di americanizzare questo prodotto troppe safety car in pista inutilmente anche oggi ragazzi passaggio tra la virtual la safety car per scostare la racing point di Perez quattro cinque giri che era che era ferma lì alla via di fuga cioè io posso capire durante l'incidente ma non così quindi ma poi sempre questa volontà ormai è così no dico anche la storia degli inchini secondo me ormai sì troppo commercializzato non è più formula uno per molti aspetti vedremo cosa accadrà sotto certi aspetti anche il prossimo anno ragazzi noi vi salutiamo ovviamente grazie a tutti ragazzi eh fantastici condividete questo video delle pagelle che secondo me è uno dei più belli della stagione e mi raccomando ci sentiamo presto quindi rimanete connessi alla pagina facebook formula uno seguiteci sui vari social siamo presenti un po' dappertutto oggi anche su telegram la novità è telegram instagram tra poco anche su tiktok vedremo Giovanni ma per tutto iscrivetevi al canale youtube mi raccomando condividetelo mettete qualche mi piace insomma aiutateci a crescere perché ci divertiamo insieme a voi a commentare sarà non alla prossima stagione ma per il prossimo ospite no che parleremo un po' del duemilaventi ma anche ci proietteremo alla stagione duemilaventuno con qualche ospite d'eccezione è stato un anno particolare dicilissimo però ci siamo tenuti compagnia ci siamo divertiti e per fortuna che c'è stato questo campionato di formula uno perché dopo grazie a Damiano che ci dice finalmente abbiamo persone schiette e sincere questi sono i messaggi che ci fanno piacere sì sì ragazzi ci sarà anche la possibilità di interagire su telegram rispondo a viaggio è una novità assoluta quindi la gestisce anche il caporedattore da questo punto di vista qua ci portiamo avanti Giovanni con i balletti su tiktok faremo di tutto faremo di tutto alla prossima ciao ragazzi buona serata e buona domenica ciao a tutti ragazzi